La crisi idrica è piuttosto accentuata soprattutto nel nord Italia, nella pianura padana, ma coinvolge parecchie regioni nel contesto del nostro paese. La situazione in Abruzzo risulta essere una situazione che va monitorata, non è critica come in altre regioni italiane, come per esempio nella pianura padana, ma chiaramente non sappiamo quale sarà l'evolversi delle situazioni meteorologiche, quindi soprattutto in particolare l'anomalia termica e quella pluviometrica, se continua a fare molto caldo e non piovere, la situazione può diventare molto più critica. In questo momento la palla è nel campo dei gestori che svolgono un ruolo cruciale, la scarsità di risorse è sotto gli occhi di tutti e quindi è un momento storico nel quale a maggior ragione la gestione della risorsa idrica va effettuata con particolare attenzione e cautela. Le risorse da stanziare per l'efficientamento delle infrastrutture acquedottistiche che mediamente in Italia, ricordo, hanno un'età superiore ai 50 anni è sicuramente un campanello d'allarme, molte infrastrutture addirittura superano il secolo di vita e quindi la necessità di adeguamento, ammodernamento e manutenzione è un impegno che è assolutamente prioritario. C'è necessità di grande cooperazione internazionale su questo tema, c'è bisogno di una cooperazione politica che diventi globale, come globale è la crisi ecologica, come globale è la crisi energetica. C'è bisogno di una sensibilità maggiore su questo tema, soprattutto di decisioni che siano fortemente indirizzate verso la riduzione dei rischi dei cambiamenti climatici. Abbiamo puntato molto sul tema dell'idrico, sia nel PNRR con i progetti bandiera di cui attendiamo il decreto di approvazione almeno di un primo lotto di interventi che vedranno proprio protagonista la duttrice del Ruzzo e che consentirà di creare una connessione diretta e forte tra l'acquedotto Terramano, quello di Pescara e quello di Chieti in modo da poter risolvere un problema molto serio di approvvigionamento idrico che soprattutto nei mesi estivi, quando c'è maggiore presenza di turisti e maggiore richiesta di acqua, continua a imperversare. L'acqua che esce dal Gran Sasso sia sul versante Terramano che sul versante Aguilano è tra le più pulite, sicure e sane di tutta Italia. Non teme confronti e il sistema di monitoraggio e controllo e le centraline, anche la capacità di analisi che hanno questi strumenti è molto molto superiore alla media di tutti gli altri acquedotti italiani. Quindi rassicuriamo i cittadini abruzzesi e in particolare quelli Terramani e Aguilani che l'acqua che bevono che arriva nei loro rubinetti è sempre sanissima e su questo non c'è nessuna ombra di dubbio.